ue ue am vinto scudetto ue ue è arrivato conte am vinto scudetto am vinto scudetto rivinciamo di nuovo è arrivato conte il vincente mo am vinto scudetto ue ue benvenuti monarchici assoluti no non sono diventato una coltana ho semplicemente provato a imitare un qualunque tifoso del napoli nel momento in cui è stato annunciato antonio conte come nuovo allenatore ci sono i video sia dei tifosi napoletani mainstream inutile che vi faccia i nomi li conoscete tutti sia degli amici di tifosiamo che hanno proprio fatto il video reaction a quando fu presentato conte novantanove napoletani su cento dichiaravano non di essere migliorati rispetto a l'anno precedente quindi dire sei arrivato conte più bravino di garziati calzona di no proprio dicevano am vinto scudetto am vinto scudetto il monarca nerazzurro cioè io non voglio parlare in terza persona ma è proprio per portarvi l'esempio coi fatti se voi andate sulla mia home page del mio canale il video che io ho lasciato in vetrina ok e 30 motivi per brindare all'esonero di conte io l'ho sempre ritenuto anellatore scarso credo il più scarso che abbia mai visto dopo dopo cooper sulla panchina dell'inter quindi se la giocano conte cooper e tardelli per me più scarsi mai visti sulla panchina dell'inter e mazzarri ovviamente ecco e avevo già avvisato i napoletani che conte è un allenatore scarso no finito no proprio scarso e scarso come allenatore e che comunque e questo è un discorso che ho sempre applicato per il milan ma applico anche ovviamente per tutte le altre squadre io ripeto questo fino alla morte lo ripeterò finché non vi entrerà in testa se domani guardiola si dimette dal siti e va a allenare il milan o va a allenare il napoli può portare qualche punticino in più ma poi in campo scendono i calciatori se i calciatori sono scarsi non puoi aspirare chissà che cosa loro hanno fatto lo stesso errore dei milanisti cioè si sono illusi che per un anno dove si allineano gli astri ti va tutto bene i giocatori over performano e le competitor che dovrebbero vincere per mille motivi non vincono loro hanno creduto di essere forti cioè sto parla io mi sono trovato anche a ocv c'è stata gente che mi ha detto che osimè era più forte di lautaro c'è stata gente che mi ha detto che di lorenzo era molto più forte di un d'unfris un d'armian c'è stata gente che mi diceva che racmani era più forte di bastoni c'è stata gente che mi ha detto che lo bocca lo so che si dice lo bocca ma loro lo chiamano spesso lo bocca sia più forte di un brozovic o di un cialanolu l'hanno detto varaschelia era il nuovo fenomeno del caccio mondiale se beh sentir loro che poi davvero è l'unico cacciatore del napoli che mi piace che non è un fenomeno è uno bravo poi c'è il campo e sul campo il monarca vince perché basta guardarle le partite cioè io non credo di essere un mago merlino uno assurdamente no guardo le partite studio un minimo di tattica eccetera i cacciatori del napoli sono scarsi ma molti sono scarsi poi tu dici ma monarca ma tu vuoi troppo io tendo all'eccellenza certo io ragazzi sono quello che critica barella voi lo sapete e parliamo di uno dei centrocampisti che fra i più forti in europa ce lo vuole real madrid eppure io lo critico perché so che può dare di più e perché io tendo all'eccellenza è chiaro come spesso dico col mio amico elio in live che saluto lui mi rimprova dice ma per te monarca sono tutti scassi sì io tendo all'eccellenza certo certo il mio termine di paragone su un centrocampista è xavi e iagliatore e toni cross e modric è chiaro io quelli cioè parliamo di grandi club parliamo di che prima il napoli non è un grande club quindi io mi dispiaccio anche per loro perché poi io sono siciliano lo sapete da uomo del sud posso sentirli vicini ma tu devi essere realista se ti fai una squadra che ha vinto tre scudetti in cent'anni di storia quando poi resti delu cioè tu parti con l'idea di vincere lo scudetto già parti male è un caso che squadre come napoli come roma come lazio vincano gli scudetti punto quindi già c'è quello i tifosi napoletani romanisti laziali sbagliano quello che partono con l'idea di vincere non ci siamo perché sono casi parlano gli almanacchi cent'anni di storia vinci due tre quattro scudetti non sei un club vincente poi che credano che un allenatore abbia la bacchetta magica e faccia diventare giocatori scarsi l'anno dello scudetto c'era one jesus eppure se sentivi napoletani one jesus era bravo faceva il suo oggi croce su one jesus ma non è che ora one jesus è zero e prima era il nuovo beckenbauer è sempre stato scarso semplicemente aveva accanto quando entrava perché parte del titolare racmani con chi ma c'era kim che teneva una difesa intera c'era un over performare di lobotka e di anghissà che non hanno un livello di campioni hanno over performato come campioni nel gioco di spalletti e con i compagni che di lorenzo di lorenzo ragazzi è scarsa il secondo gol ieri eh che prende il il napoli è colpa di di lorenzo per dirne una per dirne una il primo gol è colpa di one jesus sbaglia la diagonale il terzo gol olivera si fa mangiare sulla fascia quello grosso e mezzo ma poi i centrali comunque sono fermi guardano le papere e nessuno creda che nel momento in cui buongiorno prende fiducia prende buongiorno non è non è beckenbauer questo voi non capite i vostri giocatori sono scarsi sono scarsi lì forti che puoi dire forti ci sono osimen e kawaskelia finito e loro due sono uno sul mercato completamente vogliono anche lì cioè è il mercato che fa il prezzo non il presidente quello chiedeva 180 milioni ma se osimen che ha fatto una stagione solo è arrivato sopra 20 gol se non mi sbaglio se metto i numeri osimen osimen adesso ve lo faccio vedere ragazzi se non vado errato lui solo un anno ha superato i 20 gol vediamo un po' esattamente 26 gol l'anno dello scudetto però ragazzi se tu chiedi 180 milioni per uno che solo un anno ha superato i 20 gol vedete qua qua 26 tutti gli altri anni 13 10 14 15 sono numeri da seconda punta neanche la prima punta eh ma ha avuto gli infortuni sì ma tutti hanno avuto gli infortuni cosa vuol dire allora se osimen per un anno che superi 20 gol vale 180 milioni quanto vale l'autaro datevi vedere i numeri di l'autaro l'autaro da anni superi 20 gol da almeno tre anni quello di più quanto vale mille miliardi ala quanto vale sei milioni di miliardi di bilioni non avete senso della realtà poi conte ci mette del suo perché conte e da quando è arrivato che dice ci vogliono giocatori eh non è più il napoli di due anni fa ehm voglio altri sono state disattese le promesse comunque questo è il suo concetto no che lui a lui era stato promesso di comprare tizio caio semproni non sta arrivando nessuno quelli che vanno in campo come ci vanno in campo totalmente scoraggiati dice allenatore non crede in noi quindi quando vi dicono conte un grande motivatore è l'esatto opposto ma questo l'ha fatto anche all'inter quando lui perde la partita di bologna col con la buonanima di mialovic in panchina che fa tre cambi e ribalta la partita lui non aveva fatto neanche un cambio invece contro il primo cambio lo fa all'ottantanovesimo ericsson una partita che si giocava praticamente in estate con mille gradi e l'inter perde 2 a 1 quando sbrava il rigore la valore vi ricordate lui poi in conferenza stampa dice che vi aspettate io mi sono trovato un pacchetto di giocatori preconfezionato questo è il motivatore come sta facendo a napoli ci vengono giocatori nuovi acquisti la situazione non è buona di quadri è chiaro che poi già non sono forti ma tu tutta l'estate rompi il cazzo di facendo intendere che hai dei giocatori scarsi che ne vuoi altri normale 3 a 0 col verona vediamo i numeri va qua 33 per cento possesso valla verona 67 napoli ma sterile solo quattro tiri in porta gli stessi del verona che però ha fatto tre gol sapete qual è la differenza qua la differenza è semplice il livello tecnico dei cacciatori che hai quindi compreso che va a cavare a schelia che non è uno che fa pollo e si vede è uno che salta l'uomo eccetera ma non è un bomber cioè non è non è un esterno alto da 15 gol costante per niente simeone che fa quello che può a me piace ma ci vuole tutta la squadra e poi la differenza è che tu devi saper costruire l'azione offensiva perché se tu hai 67 di possesso fa il 67 per cento ma alla fine per di tre a zero vuol dire che tu come allenatore sei sotto zero nel far costruire azioni pulite quando tu hai la palla perché conte essendo allenatore scarso gioca solo di contropiede i tiri puliti in aria con cui poi vai a segnare lui li costruisce solo in contropiede non sa farlo il gioco di costruzione è un allenatore zero però questo non viene visto e quindi quando arriva conta ma vinciuto scudetta ma vinto scudetta guardate le partite cari napoletani come tutti gli altri che incensano conte quindi anche ex interisti ex juventini cioè in senso quando lui era l'inter alla juve che lo incensano no non è uno forte voglio sapere cosa ne pensate voi quindi anzitutto iscrivetevi al canale poi cliccate su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live mi raccomando iscrivetevi al canale fatelo per idea dell'algoritmo di youtube il nostro solito salute latino vide te mox